Mi sono unita a una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Ragazzi, lui è Bertram! Il nuoto sincronizzato maschile non è un gioco da ragazzi. Ci vogliono forza di volontà, grazie. Ritmo, ma soprattutto... Uno stile di vita sano, te la senti? Parliamo del campionato del mondo. Chi ci sta? Tutti! Sfigati, che musica pensate di usare? Porta sfiga, sei matto! Sì, sì. Sono lì! Su, quelle cheppe flaccide! La stronza ci ucciderà. Due ore, non rompete! Sono con il suo amico! Cosa ho detto? Squadra francese. Che dite, orca chassine? No, direi di no. Eccomi. Ti ho detto di avvicinarti. No, volevo aiutarla. Tu vuoi aiutare me, ciccione? Torna con gli altri sfigati. Ma che credete? È così che pensate di vincere? A noi basta partecipare. Scusa, non ti ho sentito? Vogliamo solo partecipare. Non dirlo mai più, palla di grasso! No, non lo picchi. Cosa ti fa male? Niente, niente. Vi trasformerò in atleti, femminucce lagnosi. Ora correte! Ma come faccio con le ciabattine? Vanno benissimo. Iniziamo, non lo so. Niente, niente. So, come faccio con le ciabattine? No, non lo so. Call me, call me, call me. Ete, ete. Grazie a tutti.